Superati mille chilometri Giorno 10, direzione Vicenza Martina Sabadin ci apre le porte di spazio ricerca un luogo accogliente che sentiamo come casa ci immergiamo in una masterclass dedicata alle pose di equilibrio sulle braccia durante il satsang è emerso che le pose sulle braccia non sono soltanto una questione di forza e che l'equilibrio accade per una distribuzione di forze e il limite è soltanto nella mente a fine pratica una sorpresa incredibile Martina e Andrea portano con sé i due gemelli ed è subito festa tra insegnanti Shanti Om ci racconta delle sue creazioni originali ed ecosostenibili ogni volta che veniamo a Vicenza abbiamo un rito andiamo alla locanda alla luce cibo naturale, vegano e curato in ogni dettaglio anche per Martina è tempo di copia della copia salutiamo i due fagiolini e un abbraccio a presto spezziamo il viaggio in un agriturismo biologico tra Treviso e Belluno un luogo suggestivo tra tende, tipi, barche, costruzioni in legno abbiamo dormito tra i ciliegi immersi nella natura grazie a tutti grazie a tutti